buongiorno siamo oggi qui per parlare di innovazione tecnologica e di mediazione creditizia per fare questo abbiamo due due granditi ospiti conoscenze già di simple beats stefano grassi che ormai è un abitué di simple beats buongiorno stefano buongiorno buongiorno flavio buongiorno a tutti e grazie chiaramente presidente di affida e stefano scagni business development di intesi group buongiorno stefano grazie buongiorno a tutti anche da parte mia bene allora io inizio proprio con parlare un po con stefano grassi visto che da ormai qualche tempo insomma da un po di anni ha implementato tecnologia all'interno del suo processo di vendita e nello specifico anche tecnologie riguardanti la firma digitale a distanza riconoscimento a distanza e quant'altro stefano come come è andata quanto è stato difficile a portare questa diciamo il cambiamento anche di mentalità sulla rete e invece se se ce ne sono stati quali benefici hai ottenuto grazie grazie flavio sì allora sono circa due anni che abbiamo introdotto la soluzione della firma della firma elettronica firma digitale e ma ti dirò non è stato particolarmente complesso particolarmente difficile diciamo nei confronti della rete far passare questo questo messaggio questa innovazione perché la rete comunque era abbastanza preparata e benefici assolutamente sì ti dico noi abbiamo introdotto la firma elettronica in un periodo un po particolare che era quello del lockdown quindi proprio in pieno lockdown 2020 quindi era già nei nostri piani ma diciamo che quella situazione ci ha ci ha fatto anticipare questa scelta e abbiamo fatto per cercare di limitare al massimo il contatto con i clienti in quel periodo pur continuando a farlo nel rispetto delle regole che come sai sono ancora sono ancora tali insomma e ci impongono comunque ancora per una parte di incontrarli però sicuramente diciamo questa soluzione ha limitato in quel periodo i contatti e ci ha consentito comunque di portare avanti una parte un pezzo di lavoro la soluzione è piaciuta molto la rete commerciale riduce molto i tempi abbassa i costi non fosse altro per la stampa degli originali la conservazione delle pratiche tutte tutte diciamo sono se non azzerati veramente ridotti a minimi termini grazie all'integrazione con con eg evita anche errori nella raccolta del mandato chiaramente poi c'è sempre anche una parte della rete commerciale che continua a utilizzare il cartaceo quindi il nostro modello diciamo per adesso ancora ibrido e un po per abitudine e un po ma in minima parte per difficoltà diciamo di alcuni nell'utilizzo di strumenti tecnologici e digitali e su questo stiamo lavorando e comunque diciamo che di mese in mese ma direi di settimana in settimana vediamo dei progressi significativi anche da questo punto di vista quindi c'è ancora un po di resistenza digitale ma allora è molto limitata a una parte residuale della della rete commerciale diciamo che più che resistenza ti ripeto all'utilizzo di strumenti perché ormai insomma le persone non abbiamo una rete con età media diciamo abbastanza bassa però anche le persone che 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 come me hanno qualche anno in più o anche qualcuno in più di me comunque ormai sono 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 assolutamente abituate all'utilizzo di strumenti quindi diciamo il fatto che che alcuni ancora non non utilizzino la firma digitale è legato più a un tema di abitudine quindi è su questo che stiamo lavorando prevalentemente dal punto di vista diciamo dell'evoluzione tecnologica direi che insomma tolte qualche tolta qualche rara eccezione il resto della rete sul pezzo stefano scagni abbiamo sentito l'altro stefano raccontarci un po i vantaggi che hanno che hanno avuto un po le difficoltà voi come intesi gruppo avete anche un osservatorio un po più ampio della singola azienda raccontaci magari se è diciamo quello che ci appena raccontato stefano è un po la normalità nel quello che accadono nelle aziende o se hai anche delle dei spaccati diversi insomma grazie flavio ma devo dire che quello che che anticipato stefano è un po quello che che è stata l'evoluzione diciamo di questi ultimi due tre anni come tutti avranno toccato con mano c'è stata una fortissima spinta alla digitalizzazione un po a 360 gradi dal nostro punto di vista e in ambiti come sono quelli dei servizi finanziari in particolare quello che 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 è stato uno del dei punti di focalizzazione su cui si è spinto si sta spingendo è il processo di onboarding quindi di acquisizione del cliente di di firma dei contratti e così via da questo punto di vista una delle leve che che hanno permesso di accelerare moltissimo la digitalizzazione in quest'ambito è stato è stato speed il servizio di identità digitale che sostanzialmente ha consentito da circa un paio d'anni a questa parte di raccogliere i dati identificare i clienti in maniera estremamente più veloce ma non solo quindi più efficiente eh dal punto di vista proprio dei tempi ma anche eh più efficace dal punto di vista della correttezza dei dati ad esempio perché un conto è raccogliere i dati che vengono compilati in un forum online piuttosto che in un modulo cartaceo e così via un conto è avere già i dati validati da un soggetto terzo come sono gli identity provider che rilasciano le identità digitali speed e che quindi di fatto fanno dei controlli a monte e sono garanti della correttezza dei dati quindi il percorso eh è stato è stato molto in questa direzione teniamo conto che oggi ci sono circa 32 milioni di identità speed rilasciate in Italia quindi stiamo parlando praticamente della totalità della della popolazione diciamo così attiva in ambito lavorativo eh per non parlare del fatto che poi stanno partendo evoluzioni speed minori e quant'altro quindi questo è stato veramente un cosiddetto boost eh dal punto di vista digitalizzazione l'altra cosa che noi vediamo eh in questo in questo ambito di mercato è che diversi diversi nostri clienti o l'hanno già fatto o stanno pensando e valutando il passaggio dalla firma rettonica avanzata alla firma rettonica qualificata questo dà una serie di vantaggi dal punto di vista strettamente legale inversione l'onera prova eh validità erga omnes della firma quindi accettazione anche verso le controparti e così via anche questo è stato facilitato ovviamente dall'utilizzo dello speed quindi sono una serie di tasselli che 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 si vanno ad aggiungere e che aiutano in questo in questo percorso eh dal nostro punto di vista noi in questi due anni quindi abbiamo in parte seguito in parte anticipato diciamo queste questi trend siamo diventati service provider speed aggregatori speed in realtà è un servizio diciamo a latere di tutto questo siamo diventati anche gestore pack però l'evoluzione l'evoluzione c'è stata e ed è fondamentale perché come diceva l'altro Stefano eh il mercato è abbastanza pronto oramai dieci anni fa non lo era sicuramente negli ultimi due tre anni eh i clienti sono disponibili e sono disposti e spesso sono contenti a utilizzare questo genere di strumenti. Anche perché oltre a sicuramente alla pandemia che ha aiutato a accelerare verso questi sistemi per una questione di mancanza di spostamento con i vari lockdown eh però anche adesso insomma credo che i vantaggi ci siano come diceva Stefano dal dal fatto di non stampare più cartacei e quindi come dire anche che l'economia in questo senso ha un suo un suo peso fino al fatto che oggi con i costi dei carburanti spostarsi per andare magari cento chilometri più in là è un impegno economico. Giusto Stefano? Giustissimo giustissimo Flavio sicuramente firmare firmare in digitale non il futuro ma insomma necessariamente il presente è troppo più più semplice semplifica tutto accelera i tempi quindi ti consente anche di fare di più no? Perché se con il tempo impiegato diciamo con metodi tradizionali a raccogliere una pratica e impieghi un tot di ore grazie a queste a queste evoluzioni e quelle che poi ci saranno non voglio neanche immaginare in futuro eh impieghi molto meno impieghi la metà o impieghi addirittura un terzo del tempo quindi vuol dire che nella stessa ora o nell'ora e mezza eh anziché una pratica ne puoi fare due o tre e quindi aumentano aumentano anche le prospettive di 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 crescita di fatturato e di business che poi è è il motivo per il quale insomma siamo siamo tutti quanti qua. E poi soprattutto se hai anche la possibilità di sfruttare un istituto che anche a sua volta ha un progresso a distanza esatto esatto e su questo devo dirti con con soddisfazione cominciamo a registrare anche le prime i primi segnali positivi un po un po su tutti i fronti devo dire anche anche lato mutui e questo abbiamo abbiamo finalmente qualche banca che che ce lo consente e sappiamo benissimo che sul fronte del comparto cessioni da questo punto di vista c'è stata sempre una certa predisposizione no anche anche in tempi non sospetti e confidiamo che 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 lo stesso avvenga e già in parte sta avvenendo anche nel mondo poi del del prestito personale ecco quindi assolutamente sì è un percorso ormai avviato e che 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 diciamo giorno per giorno vediamo che si aggiungono dei tasselli importanti non ultimo confidiamo come sempre anche in una come dire in una in un sancire da parte dell'organismo che poi è sempre insomma il il riferimento che dobbiamo che la bussola no che 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 dobbiamo seguire che chiarisca bene quali sono quali sono le regole d'ingaggio no perché insomma sappiamo bene che corriamo sempre lungo lungo un un confine no dove dove l'interpretazione è sempre un po lasciata le società ovvio ci muoviamo anche sulla base di quello che 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 consulenti esperti ci dicono e quindi riconoscimento a distanza noi abbiamo anche avviato percorsi di di facendo degli investimenti anche percorsi di di formazione per alcune nostre risorse interne iscritte in nome ovviamente per la certificazione cioè per per diventare per avere il certificato di riconoscimento a distanza il ci sono ci sono appunto delle delle dei corsi appositi da fare cosiddetti rau no insomma poi voi siete più esperti di me sicuramente e ci stiamo già attivando anche come diceva stefano sul tema speed perché agevola tantissimo questa cosa quindi io io confido che riconoscimento a distanza e firma digitale elettronica sulla quale siamo ormai già un pezzo avanti consentano di fare un balzo in avanti importante per i prossimi per i prossimi mesi ecco già a partire dai prossimi mesi e per i prossimi anni e visto che sappiamo che oggi c'è anche un nuovo socio che spinge molto in quella in quella ottica quello ti porterà a dover dare un'accelerazione in questi anni inevitabilmente inevitabilmente non solo ma ma addirittura il fatto che noi fossimo già orientati culturalmente mentalmente ma anche concretamente grazie grazie anche la partnership con intesi e all'integrazione con egg è stato uno degli elementi che loro hanno chiaramente valutato il modello che che stiamo percorrendo con loro qui con compara semplice con con invest corp è sicuramente un modello ibrido quindi non full digital ma dove comunque la componente digitale è insomma è incredibilmente importante non solo per la gestione diciamo di quella parte di produzione diretta che ci sarà e che già stiamo cominciando a a toccare con mano ma anche per quella parte che andrà a cascata sulla rete quindi quindi assolutamente sì la la l'integrazione con con cloud care quindi con con compara semplice diciamo ci 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 sta imponendo un'accelerazione su questo fronte allora io concluderei con stefano scanni per raccontarci proprio visto che da chi opera ha bisogno di aumentare la propria diciamo digitalizzazione la propria trasformazione in società sempre più digitale dal tuo punto di vista insomma che voi siete il motore nel senso che poi i servizi siete voi a fornirli quindi eh senza di voi sarebbe quasi impossibile innovare no ehm cosa cosa vedi nel prossimo futuro eh cosa si sta muovendo anche a livello europeo eh e che ecco che fotografia ci può dare nei prossimi anni diciamo che eh c'è un futuro molto prossimo e è un futuro relativamente remoto il futuro prossimo su cui eh in particolare noi stiamo investendo è legato all'ampliamento rafforzamento di tutto quello che sono i processi di onboarding eh adesso abbiamo fino adesso non ho parlato di speed ma quello è stato sostanzialmente il primo tassello come dicevamo eh dietro l'angolo e con dietro l'angolo intendo inizio dell'anno prossimo quindi ci siamo eh i passi successivi sono l'utilizzo ad esempio della catena elettronica che ha dei numeri simili a quelli di speed parliamo di circa 33 milioni di cosiddette cie rilasciate ai cittadini italiani che tra l'altro a tendere andando a coprire il cento per cento della popolazione oggi speed per certi versi è un servizio opzionale poi non sempre è opzionale per davvero perché se io devo accedere ai servizi non ho bisogno però è comunque diciamo una scelta di cittadino la catena elettronica andrà a coprire il cento per cento della popolazione solo questioni di tempo ehm l'altro 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 ambito in cui stiamo lavorando è l'identificazione tramite sistemi di intelligenza artificiale quindi il recupero automatico dei dati degli utenti riconoscendo automaticamente i documenti di identità recuperando automaticamente i dati da questi documenti verificando la veridicità dei documenti stessi e così via quindi questi sono due temi chiamiamoli caldissimi perché si parla di inizio dell'anno prossimo in prospettiva prospettiva ci sono progetti che fino a poco tempo fa erano quasi fantascientifici però stiamo parlando del cosiddetto EIDAS 2 eh non ha dette i lavori EIDAS è il regolamento che dal 2016 norma tutto quello che è il mondo delle firme digitali a livello europeo quindi a livello di comunità europea eh molta stata è stata fatta eh in questo momento ci sono commissioni gruppi di lavoro progetti pilota eh su cui stiamo partecipando noi stessi siamo in un paio di progetti a livello europeo per il cosiddetto EIDAS 2 che è lo step successivo possiamo chiamarlo così che ha l'intenzione di di espandere i servizi a disposizione del cittadino e quindi dei clienti degli utenti e porterà novità non banali legate all'utilizzo di denti al genitali a livello transnazionale quindi sia per un mercato che non è più legato a l'utente italiano perché ha speed e quindi riesco a riconoscerlo ma sarò in grado di riconoscere un utente a livello di comunità europea eh quindi si aprono prospettive estremamente inaspettate fino a qualche anno fa ecco cioè andare andare a raggiungere utenti al di fuori dell'Italia è un altro mestiere tra virgolette e invece questo apre apre veramente le porte a a realizzare i servizi estremamente nuovi quando ci siamo un po' confrontati qualche tempo fa hai parlato anche di una possibilità di un wallet eh che possa contenere tutte le nostre diciamo informazioni digitali identità digitale esattamente uno dei dei maggiori progetti di di EIDAS 2 è la realizzazione del del wallet del cittadino il wallet non sarebbe altro che una sorta di chiamiamola app con tutti i criteri di sicurezza del caso che contiene tutte le informazioni gli attestati gli attributi di un cittadino quindi può contenere la sua posizione finanziaria il suo dirigato di firma eh i suoi attestati di che so laurea universitaria eh iscrizione a un'associazione di categoria cioè tutta una serie di informazioni presenti all'interno di questo wallet che possono essere messe disponibili a un provider di servizi e in questo modo può accedere direttamente a quelle informazioni senza dover recuperare carta senza dover interrogare soggetti diversi perché all'interno del wallet tutte queste informazioni sono già certificate a monte tramite l'utilizzo di blockchain di tecnologie innovative quindi questo facilita ancora di più non solo il recupero dei dati anagrafici come facciamo già oggi ma tutta una serie di di altre informazioni che poi sono fondamentali nella valutazione del cliente per proprio per il business in senso stretto. Aggiungo come ulteriore tassello ehm che sempre nell'ambito del del dei servizi fiduciari a livello europeo eh c'è in corso il progetto di trasformazione della PEC alla cosiddetta REM che sarà una sorta di PEC europea quindi un servizio di scambio di messaggistica eh interoperabile a livello di comunità europea e anche questo potrebbe essere un acceleratore del business perché abbiamo visto che la PEC partita in sordina ormai più di 15 anni fa ormai è di uso comune ed è uno strumento con cui le aziende e i clienti si scambiano informazioni riservate di un certo livello contratti e e quant'altro quindi anche questo è un ulteriore passo verso l'apertura di mercati e apertura di nuove possibilità. Bene eh sembra che la fantascienza ormai è diventata quotidiano eh quindi siamo ci siamo quasi immagino che Stefano Grassi quanto sarà semplice in futuro dove magari con il semplice eh contatto di due eh di due device si potranno scambiare immediatamente tutta la documentazione firmare la modulistica cioè parliamo di sarebbe una gran figata. Esatto ma se si può dire ti rispondo esattamente così una gran figata e non vediamo l'ora che che sia possibile ma è già già intravediamo già intravediamo questa possibilità no? Anni fa mi avessi detto una roba del genere eh magari sarei stato più scettico non ti nascondo oggi oggi devo dirti che 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 questa si si percepisce essere veramente già a portata di di click diciamo così. Bene bene allora intanto io vi vi ringrazio eh vi saluto eh e insomma eh sapendo che oggi la farola più eh più detta è Stefano eh vi saluto caramente e vi ringrazio. Grazie a te. Grazie a voi. Buona giornata a tutti. Buona giornata a Stefano e Flavio. Grazie a voi. 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 Gra